Grazie, onorevole Susta, per due minuti. Grazie, Presidente. Un grazie particolare al relatore, a Jorga Leifre, su questo documento. È una relazione importante perché definisce meglio i rapporti interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione su una materia estremamente delicata che ha visto allargati i poteri del Parlamento in una competenza, quella commerciale, che era sottratta alla codecisione del Parlamento europeo. C'è quindi un problema di fondo che non è un problema legato ai regolamenti che noi andiamo a toccare con la relazione di oggi, che quindi entrano con una disciplina nuova, ma che riguarda il rapporto che esiste tra il Parlamento europeo e la Commissione. Allora, da questo punto di vista, dico che mentre sono molto contento della relazione di Jorga, sono molto poco contento delle parole pronunciate dal Commissario in quest'Aula. C'è ancora un eccesso di tecnicismo nei rapporti tra il Parlamento e la Commissione. C'è un tentativo palese da parte della Commissione e del Consiglio, un tentativo costante, di ridurre e riportare il Parlamento europeo a quello che era prima di Lisbona. E questo noi non lo possiamo permettere. Ecco perché è importante aver fissato un limite temporale alla delega, è importante chiedere una maggiore specificazione alla Commissione, è importante aumentare il controllo del Parlamento europeo su questo. Solo così noi possiamo rispondere anche ai problemi che sollevava l'On. Salvini. Io sono assolutamente d'accordo che venga mantenuta la competenza dell'Unione in materia esclusiva sulla politica commerciale, che vada rafforzata il potere dell'Unione europea rispetto ai singoli Stati. Ma noi dobbiamo essere più forti, anche all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nell'assumere la consapevolezza che senza una maggiore attenzione all'economia reale e noi non usciremo dalla crisi in cui siamo precipitati. Grazie. Grazie. Non ci sono deputati che hanno richiesto la parola per il catch di AI, quindi ridò la parola al Commissario Scemeta. Prego. Grazie Presidente e onorevoli parlamentari.